Dicevo che era dura, poi non avevano nessun vestiario, non è come adesso che ti danno tutto, diciamo che è antifortunistico, quelle poche cose che avevano andavano giù a lavorare, tutti bagnati sempre dal mattino alla sera, che entrava in galleria, pioveva giù, poi dovevano poi lavorare perché dovevano fare dei, non so adesso non mi ricordo bene cosa mi dicevano però, non so se erano dei metri al giorno, ogni sciolta, perché facevano tre turni diceva e qualcuno, quelli che facevano di più, quelli gli davano qualcosa di più, allora c'era anche la competizione lì che era per il lavoro e loro lavoravano per prendere qualcosa di più ma era la loro morte perché diciamo che con più stavi dentro, con più eri finito, perché c'era la gente ancora anche adesso che ha lavorato lì ma lavorava fuori, gente che prende anche la pensione dalla silicona, però quelli non sono entrati, e quel pezzo lì da Malonno a, diciamo al Poglia lì dove c'è la diga, quella lì era la più micidiale che c'era, questa qua, ci sono le finestre, si chiamano finestre, sai cosa sono? Sono dove portavano fuori il materiale, no? C'è la 4, la 5 mi diceva, quella lì era la più micidiale, quella lì era, si sa che, era proprio il materiale lì che era, non so, quello che era, insomma era la più potente, che morivano proprio dopo poco ecco, perché gente che è stata giù magari 3-4 anni, dopo 6-7 anni è morta neanche, si vede che stava attaccato ai polmoni e lì non ho più, non facevano più niente, insomma, la condotta è dove, è dove parte dal bacino che va in centrale, dopo c'è una pressione lì, certa pressione per poter far andare i gruppi, hai capito, è una, è una, diciamo, prendi l'acqua, la accumuli, e ti serve per tante ore di funzionamento per la centrale, capito? Ma io, il mio lavoro era quello delle turbine, facevo il meccanico, cambiavo turbine, facevo, diciamo, il meccanico di reparto, eravamo in 4-5 perché lì da tutti gli anni bisogna fare manutenzione, perché che vadano bene le cose, fare manutenzione fatta bene, era un lavoro che alla fine, dalle finite, eravamo anche esperti perché eravamo, perché lì sono soldi anche, se non va a una turbina perdi acqua perché l'acqua non puoi fermarla, la fermi per un certo punto nel bacino, però quando è tanta la devi buttare via, se tu non vanno in gruppi, lì devi buttare via. Comunque per noi è sempre stata una buona, diciamo, anche un'esperienza buonissima sul lato che ci hanno insegnato anche i vecchi, perché quello lì non puoi impararlo a scuola, che non c'è un mestiere che vai e dici, io vado a fare quel mestiere lì per imparare sulle turbine, ma imparerai sui libri cosa hai fatto, ma manualmente devi proprio essere, devi avere, diciamo, continuità, devi essere sempre lì, devi, ogni giorno ti capita questo qua, l'altra giornata, comunque l'esperienza ti fa un buon curriculum, diciamo, di lavoro. Beh, dalla malattia, guarda, mi ricordo il respiro, che lui partiva, c'è una specie di cassina, giù qua sotto il paese, andava tutti i giorni in cassina, però la sera mia madre era già a casa e che lui arrivava dopo un'oretta che si vede che si fermava chissà quante volte venendo su perché non riusciva bene a respirare. Poi la sua fortuna era perché era magro, era magro, era proprio uno stecchito, e anche a respirarlo vedevi che, poi mi diceva mia moglie una volta che con le lastre lì che aveva visto, io non me ne intendo perché non so, però non aveva più i polmoni, respiravo con la torace, non so, comunque era messo male, ecco. Grazie.